E' partito dall'ospedale dell'Annunziata il tour tra le strutture sanitarie della Napoli Antica, organizzato per celebrare i 500 anni dalla fondazione dell'ospedale degli Incurabili, una ricorrenza che è stata l'occasione per rendere omaggio ad un simbolo del centro storico, ma anche per ribadire la necessità di riportarlo al suo antico splendore, dopo anni di crolli e degrado. Noi siamo qua per accendere i riflettori su una situazione che merita un recupero, sia per la parte sanitaria, e se è già a buon punto, sia per la parte culturale. E ci sono ben cinque direttori di musei importanti d'Italia, Venezia, Roma, Firenze e Milano, che sono venuti qui a raccontare la fondazione. Che significa fondare un ospedale? L'ospedale non è un palazzo normale, come non lo è una caserma, non lo è la scuola. E' un luogo che l'uomo deve riflettere sul suo futuro e anche sul suo passato e sul valore etico, di cui abbiamo molto bisogno, soprattutto oggi. Una necessità evidenziata anche dal Comune di Napoli, che nel partecipare alle celebrazioni, ha ribadito la volontà di intervenire per far rinascere l'ospedale degli incurabili. Ci auguriamo che questa data sia finalmente la ripresa di questo luogo, che deve essere restituito alla sua funzione. e devo dire insieme con l'ospedale anche i luoghi straordinari di arte e di cultura che sono contenuti all'interno della sede dell'antico ospedale.